Umberto Di Primio in vista delle nuove elezioni comunali a Chieti. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare delle difficoltà di allineamento nella coalizione di centrodestra. Manca l'accordo sul nome del candidato, dunque il primo cittadino ancora è incerto sulla sua ricandidatura. Lui si muoverà solo se otterrà la fiducia congiunta di tutta la coalizione. Ci siano delle posizioni diverse nel centrodestra, è cosa nota ed è evidente, ci mancherebbe. Ma credo che in questa settimana noi saremo in grado di offrire ai cittadini di Chieti il nome del candidato, un nome unitario, quindi senza fare inutili orpelli organizzativi. Si ha il coraggio di scegliere l'uomo che dovrà guidare la coalizione di centrodestra che la raccoglie tutta quanta e che in continuità con questa amministrazione chiaramente porterà avanti i progetti, quelli già realizzati li proporrà. Quelli che sono da realizzarsi li andrà a lavorare perché possono diventare obiettivi raggiunti nei prossimi cinque anni. Il centro-sinistra invece si è mosso con anticipo e lo scorso weekend si sono svolte le primarie per scegliere il candidato. A vincere è stato Luigi Febo che di primio ha già incontrato sul suo cammino politico. Io credo che loro abbiano fatto una scelta legittimissima all'interno del loro schieramento. ricordo soltanto che hanno scelto una persona che qualche problema a questo comune ce lo ha creato.